salve a tutti amici come va con questa quarantena siamo un po tutti esauriti però se la possiamo fare ragazzi veramente ce la possiamo fare allora il mio piatto di oggi oggi farò della pasta fresca con la zucca ho messo su un po di olio una cipolla e ho messo a soffriggere poi aggiunto la zucca e patate e la pancetta affumicata faccio cuocere un pochetto poi ci aggiungo diciamo un mezzo bicchiere di di vino bianco metto su il coperchio e faccio finire di cuocere poi bollo la pasta a parte e la metto direttamente in questa padella e la faccio saltare una spolveratina di prezzemolo sopra e per me oggi va bene così il buona giornata e che dio ci benedica